Luca, 24 anni, barista. A fine turno indossa il suo outfit limited edition sul quale investe ogni mese gran parte del suo stipendio per fare serata con gli amici. Sogna di poter aprire il suo locale esclusivo ad Ibiza. Marta, 26 anni, lavora come staggista in una banca, combattuta tra il desiderio di farsi una famiglia e quello di fare carriera. Per ora, quasi tutto quello che guadagna se ne va per l'affitto a fine mese. Alberto, 20 anni, operaio per una ditta edile, patito di motori. Fa follie per personalizzare la sua vecchia auto con le ultime novità sul mercato. Vorrebbe realizzare il suo desiderio di comprare l'auto sportiva che ha sempre sognato. Cosa hanno in comune Luca, Marta e Alberto? Sono giovani. Hanno voglia di divertirsi, ma anche quello di realizzarsi, nonostante le difficoltà. Oltre a questo, hanno un'altra cosa in comune. Consumano tutto il loro stipendio mensile senza pensare a quello che potrà succedere nei prossimi 5 o 10 anni. Non li giudico per questo, lo abbiamo fatto tutti, ed è giusto che sia così. Ma non possiamo neanche far finta che questo non porterà delle conseguenze negative nel lungo periodo. Luca, Marta e Alberto hanno uno strumento per realizzare i loro progetti, per rendere reali i loro sogni. L'accantonamento, mettere da parte con costanza ogni mese una piccola parte del loro stipendio mensile. Sembra banale, vero? E invece lo è meno di quanto immagini. Pensa a quante volte, avendo dei contanti in tasca, hai scoperto di averli spesi senza neanche esserti nel risultato. In questo modo, invece, mentre continueranno a godersi la vita, silenziosamente, mattoncino dopo mattoncino, riusciranno a costruire un tesoro che tornerà loro utile per il futuro. Accantonare significa imparare a consumare meno delle proprie sentate mensile, che è il primo passo per prepararsi ad affrontare le sfide che la vita da grande ci porrà di fronte. Se hai meno di 30 anni ed hai iniziato a lavorare da poco, o magari vivi ancora con i tuoi e cerchi di arrotondare con qualche lavoretto sattuario, stipula ora il tuo piano d'accumulo. Io sono Paolo Roberto Di Carlo, il tuo punto di riferimento nel mondo delle assicurazioni. E non vedo l'ora di organizzare al meglio il tuo piano di risparmio personalizzato. Chiarezza, disponibilità e comprensione. Di Carlo Assicurazioni, la libertà di scegliere a chi affidarsi.